Oh, abbiamo pure... No, abbiamo le donazioni di me... No, no, leva l'autobotter qua Abbiamo delle donazioni orribili Sono i due black nella stessa donazione Ah, perché uno attiva il domain e l'altro no? Vabbè, la memory Eeeh, o c'è così Vediamo Zamasu Deck a ability 1, pazzesco Vediamo quanto duro sta avendo Spera meglio restare se senti il pg scarso come black Eeeh, guarda, io spero esca una merdina Sincero Nulla di sbroccato Una cosa tranquilla E se può schippa Ora, un bel asprezzo per ssstr, no? Ti vuoi far vedere il mio box per dimmi quale pg è buono o quale no? E' possibile? Su Telegram, caro In descrizione a Youtube c'è il gruppo Telegram Olèh, bel 180.000 E non ci fa paura nulla Mi sa che la special di black questa qua la counteriamo con lui Ce la nullifichiamo Non sarà scarso il pg sande perché comunque è in contemporanea Ma eh sì, è la base proprio che non è scarso Devono fatturare Sembra anche il mio Eccolo, black fisico, signore Vabbè, ma questa donazione è una cagata Ragazzi, le orb rainbow io ce l'ho però non faccio la special Quindi Un uovo radice, ecco Lì sarei molto contento Però probabilmente te lo fanno sbroccato stavolta Una delle turnazioni peggiori, ho beccato Ma non ho visto quanta def c'aveva il mio ability free Alzo le mani capo 2.3.000 Non credo che non sta linkando Però è full ability Da che linko una merda di sta turnazione Ci sono tutti e tre black con lo stesso nome Ma si fa favore l'attacco black, hai capito? Vabbè, per sua fortuna la guardia, quindi Io ho trovato una copia al secondo giro, ora basta pullare Anche come giusto che sia 23 milioni prima special, fra manco se ti impegni Non ti preoccupare 1.7.000 Vabbè, da 2.000.000 a 1.7.000 Non è che ti cambia tanto Per fortuna di Dio c'ho la guardia Se no questo avrebbe già preso danno No, no Fare personaggi come Radish fisico ne devono fare molti di più Così uno non pula Almeno devo farlo in 5 turni sto evento Diciamo che le turnazioni non hanno aiutato Mettiamola così Come si fanno i capo di serie special? Dal baba, shop o dal torneo? O il gioco ti vuole tanto bene e te li regala? Oh, Zamasu non fa troppi add, eh Non sia mai Sicuramente manca Zamasu all'ereo tecnico Mi conviene usare le 500 modalità Eh, boh, oddio Minchia, 500 modalità su dock Non so abbastanza da completà, eh Però... No, aspetta l'anniversario Oddio, le fai nel blocco rose str? Buonanima Buonanima Sì, ma io devo farlo dentro i prossimi 2 turni Che turnazioni c'ho mo? Eh, black fisico mo ci parla, no? Eh, raga, abbiamo pure il domain Eh, non scherziamo proprio su queste cose 2,85 Aspetta, aspetta Non schippiamo Mi faccio... Ma a me fa schifo pure guardarla sta roba qua È bello solo la figa che si apri... In cielo qua Olè, arrivano i ninja dall'alto Eccoci qua Guarda Poi si apriva figa Ecco, l'unica cosa bella è questo personaggio Lo... Il domain Eh, sta un bel era Buonasera, Luca Buonasera, buonasera Allora, difesa 367 Ma dovrebbe rincavore con black, no? Esatto 5,29 Identico Quindi mettiamo così Ragazzi Le orb rainbow ce le abbiamo Ne abbiamo 4 Ma più di 4 non riesco Va bene? Va bene? Va bene 4? Va, sto turno se si impegna forse lo shot in teoria Se si impegna, eh, però Cosa che di solito non fanno i miei personaggi Perché rinca? Perché si è trasformato Per questo È un altro rosè, diciamo Una Due Ma vediamo pure quanto crit, eh Perché giustamente Eh Tre Si sta impegnando sto rosè Ma di fronte mi è quello di bassa risoluzione Oh, ragazzi Minimo sforzo Massima resa Ah, crit i pugni Bravo, rosè Bravo, bravo Chi vede che li sto giocando io? Dai, dopo bel 4 pugni di HUD Mi ha fatto una special Dai Bravo, bravo C'ha 22 milioni sullo scouter Simpatico Ma no, mi ha tirato 40 pugni di HUD Poteva fare la special No Guarda, già è tanto che mi ha tirato 3 special totale Eh Mi hai detto che è già tanto Guarda Meno male che Me li ha carriato Direi meno male Grazie Grazie Lo sei gentilissimo Volevo In realtà devo provare il mio ability free Però Avevo questo full L'abbiamo sfruttato Così abbiamo fatto tutte le missioni In una run Capolavoro